adesso dove andiamo? dobbiamo portare in giro i nostri amici a casa a vedere la bella venezia a vedere il canale poi vedere il ponte ci sono tanti ponti i palazzi sai che abbiamo tantissimi bel palazzo anche storico qua venezia e c'è anche soprattutto la gondola va bene la gondola 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 e poi ci sono altri altre cose che dobbiamo mostrarti i ragazzi a casa che a venezia ci sono tutte 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 andiamo? andiamo! tu vuoi dire io vado di qua? no andiamo di qua ok Aurora sulla sinistra tua è una delle università più famose qui a venezia si chiama Università Cascari invece sulla spalle mia continuiamo? si andiamo di là andiamo allora sai questa qua come si chiama? questo si chiama al pozzo una volta e questo lo usavano per ottenere l'acqua piovana e poi dopo i veneziani li usano per fare ai loro bisogni per lavarsi per bere molto interessante sai come funziona il pozzo? si ovviamente vedi quello là c'è un buco sulla terra in fondo e quindi l'acqua entrano tutto da lì di solito c'è uno e due ed in fondo entrano dentro qua sotto di lì e arrivano su tutto qua sotto questo pozzo e una volta è anche cosa no? più caldo il pozzo molto bello è storico questo è un museo importante come si chiama? c'è scritto? Leonardo da Finci quindi quindi sono tutte le sue opere non tutte alcune sue opere e ci sono qua dentro incluso quella opere tipo aeroplano da legno è tutto dentro molto molto interessante quindi se venite qua a venezia dovete venire a campo san bernaba e visitate Leonardo da Vinci museo continuiamo? continuiamo continuiamo e loro possono vedere anche l'arte del maestro che fanno i vetri tipo questi guardate questi prendiamo adesso un giro ciao 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 o 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 Nanti kalian bisa masuk atau bisa online ke situsnya www.fontango.com Selamat menikmati Terima kasih Tepat di sebelah kanan Brojan ini salah satu bangunan bersejarah juga Dulu di tempat ini digunakan sebagai markas dari kesatia Templar Sangat worth it sekali kalau anda ke sini silahkan mengunjunginya Oke Aurora, nanti saya akan menikmati Sekarang kita mau ambil perahu Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Oke Sekarang kita ke... Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa